Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il PD è diventato un quarto partito in Sicilia. Vendola è rimasto con il suo estremismo fuori dal Parlamento Siciliano. Tu non sei stato invitato in Sicilia a fare neanche un'iniziativa per il partito. Quindi il disastro elettorale di immagine se lo sono caricati tutti loro dall'inizio alla fine. La metà dell'elettorato siciliano è rimasta a casa e non è andato a casa. E se usano bene.